ANSA, Trieste. 29 maggio. La riapertura anticipata di tantissime attività grazie all'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona bianca a partire da lunedì è un segnale forte di ritorno alla normalità. Lo ha affermato il governatore Massimiliano Fedriga che ha firmato oggi l'ordinanza contingibile e urgente numero 12. La parola chiave puntualizza Fedriga in una nota e buonsenso. Il buonsenso della Conferenza delle Regioni, che ringrazio e che ha elaborato le linee guida delle riaperture, allegate all'ordinanza regionale di oggi, e il buonsenso dei cittadini, nel tenere comportamenti che permettano di confermare le aperture previste da lunedì e di arrivare quanto prima a togliere tutti i lacci che il Covid ha imposto. Da lunedì non c'è più coprifuoco ha rilevato il governatore anche se rimangono gli obblighi di mascherina, distanziamento, attenta igiene delle mani e aerazione e sanificazione dei luoghi chiusi. Siamo sulla strada giusta anche con l'ampliamento della campagna vaccinale, che dal 3 giugno apre agli under 40. Si intravede ha concluso Fedriga la fine di tutte le restrizioni che hanno attanagliato la nostra vita economica e sociale. ANSA Grazie a tutti! Grazie a tutti!